Si tratta di progetti che migliorano la qualità assistenziale per i pazienti perché oltre a parte tecnica, farmaceutica, tutto quello che abbiamo migliorato in questi anni, c'è la parte che riguarda proprio i pazienti, i suoi caregivers, le persone che lo attornino e la sua esperienza all'interno del ricovero ospedaliero. Quindi noi vogliamo migliorare quello che è il vissuto dei nostri pazienti dentro i nostri ospedali. Ci sono una serie di progetti che riguardano prevalentemente le persone fragili che sono i bimbi e naturalmente gli anziani. Per i bimbi c'è il progetto Tommy che riguarda la radioterapia, c'è il progetto di accompagnamento dei bimbi dentro alle sale operatorie con i genitori per seguire praticamente la parte anestesiologica e poi la parte chirurgica naturalmente non trova i genitori lì. Ci sono tutti i progetti per gli anziani che riguardano soprattutto il tentativo di ridurre le contenzioni e tutto quello che è il quadro di difficoltà che ha un paziente anziano quando viene ricoverato. Quindi il disorientamento, la paura, tutta quella serie di sentimenti che caratterizzano queste cose. Per cui insieme al volontariato facciamo formazione ai volontari perché aiutino gli anziani a vivere il loro momento di ricovero in una maniera differente. Quindi diamo la possibilità di giocare a carte, di leggere un libro insieme, di fare delle passeggiate, di fare delle cose aggiuntive a quello che è il percorso di ricovero. La stessa cosa e poi sicuramente quello che l'obiettivo mio principale è quello di ridurre la condizione. Che vuol dire? I pazienti dobbiamo cercare il più possibile di evitare di legarli dagli psicofarmaci fino a che non sono stonati, cioè fare in modo che la vita del paziente dentro al reparto sia un po' diversa. Noi quello che dobbiamo fare è aiutarli a trovare il mandolo della matassa. Noi ad esempio facciamo dei progetti specifici per quanto riguarda malattie rare, in particolare l'epidermolisi bollosa e la sclerosi sistemica che sono malattie che colpiscono alcune centinaia di pazienti all'anno, ma che trovano poche risposte in giro per il paese. Quindi Modena si è candidata come punto di riferimento nazionale. Lo facciamo come? Diamo garanzie a questi pazienti di essere seguiti in una certa maniera e allo stesso tempo aiutiamo i parenti a trovare una collocazione, quindi ad esempio con la casa di Fausta abbiamo garantito e stiamo garantendo alle famiglie di trovare un posto dove stare. La casa di Fausta era nata per i bambini, per i genitori dei bambini con malattie onco-ematologiche. Abbiamo allargato il percorso anche ai bimbi con l'epidermolisi bollosa. Si appoggia sui volontari perché i volontari hanno un valore essenziale per quanto riguarda la sanità nostra. Quindi ad esempio abbiamo fatto corsi di formazione per volontari a fare i caregiver in ambito onco-ematologico attraverso il comitato consultivo misto, sapete che è l'associazione, insomma l'insieme delle associazioni di volontariato. Abbiamo formato dei volontari a fare questo tipo di attività, li abbiamo certificati per cui i volontari formati all'interno del COM vanno dentro al COM a seguire i pazienti, ma vanno anche fuori dal COM a seguire i pazienti, per cui il loro sviluppo, la loro capacità di caregiver esterno la eserciteranno anche a domicilio. La conferenza territoriale sociosanitaria in questi anni ha operato su cinque fronti. Il primo l'applicazione delle norme regionali e nazionali per creare il superamento delle ricadute negative del covid, perché dovevamo ripartire da una dimensione di sfida legata al dopo covid. La seconda era la collaborazione per rafforzare le strategie di territorio, dalle reti di prevenzione alle reti ospedaliere e territoriali e tecnologiche, perché abbiamo bisogno di rimettere il sistema in tiro, poi stimolare le risposte nazionali sul tema risorse e formazione. Abbiamo un grande problema rispetto ad aprire di più le competenze mediche, tecniche, infermieristiche, trovare soluzioni per recuperare terreno rispetto alla carenza di specializzanti, perché poi alla fine parliamo di sanità, ma se non abbiamo i medici, se non abbiamo i tecnici, se non abbiamo gli infermieri parliamo di niente. E poi il quarto punto è la collaborazione con il mondo positivo del volontariato, che è tanto grande, straordinario e che ha per larga parte realizzato i progetti che oggi si presentano. E credo che questo sia un grande risultato. Adesso pensa Tommy, tanto per per citarne uno dei tanti, eccetera. E l'ultimo punto è assicurare l'incrocio virtuoso tra i professionisti e i pazienti per rafforzare relazioni umane. Lo dico perché la nostra società, se noi facessimo i conti col cambiamento generazionale degli ultimi anni, e quando un genitore ha un figlio di nove anni e un figlio di 14 anni che gira per la città, deve ragionare delle trasformazioni a società e delle necessità delle generazioni, che cambiano l'assetto delle richieste, che cambiano anche la visione di prezzi della sanità, con dei livelli di autonomia completamente diversi. Guardate, io sto facendo un approfondimento su questo tema, perché è un tema che cambierà un pezzo dell'assetto della sanità. Succito tra le altre il tema della loro capacità di sintesi diversa dalle nostre sul tema del lavoro e sul tema delle assicurazioni, per esempio. Cioè sta cambiando un pezzo di impianto e noi abbiamo bisogno di ragionare di questo e di capire le trasformazioni profonde delle generazioni. Infine, chi ci passa, e sono tanti, hanno bisogno di sanità. Chi ci passa sa che è fondamentale mettere la persona e non la malattia al centro, che è quello che noi abbiamo deciso più volte di fare. Dalla presa in carico al centro del percorso di cura non è uno slogan, ma una fondamentale necessità deve essere un impegno ben preciso della sanità pubblica integrata. E dico sanità pubblica integrata non a caso rispetto alla visione di prospettiva che dobbiamo portare avanti, con l'obiettivo di garantire salute e benessere dei cittadini e da questo punto di vista il rapporto medico-paziente, che è una delle cose... Noi abbiamo due sfide che sono lì che girano, la presa in carico e il rapporto medico-paziente, che diciamo sempre che dobbiamo risolvere, ma che è una sfida che si allunga nel tempo, perché diventa la complessità. E quindi abbiamo bisogno di questo impegno fondamentale, pazienti, famiglia, mondo del volontariato, per cercare di umanizzare sempre di più le relazioni e le risposte di un servizio che vive di professionisti di altissima qualità, che devono avere un'anima per garantire anche la possibilità di essere società, perché alla fine poi di questi tratti, rispetto degli altri. E questa sarà la sfida più ampia che noi abbiamo di fronte.